Commenta il fatto del giorno Alberto Faustini, direttore di Alto Adige e Trentino. Oggi ricordiamo tutti le sue canzoni, magari non sappiamo che dietro c'è il grande paroliere Alberto Testo, di cui parlerò oggi. A 15 anni a scuola organizzava spettacolini, poco dopo, quando da paracadutista venne preso nel Texas e venne di fatto arrestato, creò degli spettacoli per tutti i detenuti. Aveva la musica nel sangue, ma soprattutto aveva le parole. È stato forse il più grande paroliere italiano, oggi tutti ricordano Mogol, non ci si ricorda di Testa, che tra l'altro con Mogol collaborò in anni lontani, ebbene Testa ha di fatto attraversato tutta la storia musicale italiana. Migliaia e migliaia di brani, a Sanremo la sua canzone spesso vinceva o era tra le prime, ed erano anche i primi Sanremo. C'era un'Italia che rinasceva con la canzone, sembrava qualcosa di leggero, ma non era così. C'erano dei successi come Quando, 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 come tutte le canzoni che ha dedicato l'amore, che lanciarono la grande mina. E soprattutto iniziò a inventare un nuovo modo di fare televisioni, con programmi che ebbero subito un grande successo e che consentirono al palcoscenico della musica di trasformarsi in qualcosa che poteva entrare nelle case degli italiani. Esattamente come le parole delle sue tante canzoni, che sono passate da Tony Raines a Mina, a persone che ancora oggi ricordiamo molto bene come Bobby Solo. Pensate, fino a Bocelli, per cui davvero ha attraversato la musica italiana, lasciando un segno molto importante. Per un paio di volte ha provato a fare il cantante, ma il suo vero mestiere resta quello di stare dietro le quinte, in parole che restano, anche se poi magari non ci ricordiamo il nome di Alberto Testa.